Allora, buongiorno, siamo al quarto giorno di Spectacular a San Vito e Normani, in diretta dall'Exfadda. L'Exfadda ci ha accolto molto bene finora e anche oggi. Come si sta? Si Siamo qui con Francesca Corona, direttamente da Roma e da PAV, che è un collettivo di organizzatori e curatori che si occupano di performing arts. Organizzano varie cose, un festival molto bello che c'è a Roma, Short Theatre e varie iniziative, dove il termine vario non va a smelmire per quanto riguarda questo. Oltre appunto a parlarci dell'organizzazione, di come si lavora con la performing arts, in particolare abbiamo invitato Francesca per parlarci delle esperienze relative a, soprattutto anche molto recenti, il Teatro India perdutamente e anche di reinventare gli spazi, ripensarli e pensarli anche in modo temporaneo, soprattutto così come è stata un'esperienza di perduta mente. Adesso ce ne parlerà lei sicuramente bene, meglio. Grazie, ci vediamo dopo. Questo è per noi. Ciao. Oggi volevo, insomma rispetto alla richiesta che mi ha fatta Isabella, volevo parlare di tre esempi di abitazione di luoghi in modo temporaneo. Io non ho nessun tipo di esperienza stabile rispetto a un luogo, quindi quello di cui mi sono occupata negli ultimi dieci anni è di organizzare più che altro dei tempi all'interno dei luoghi che non mi appartenevano e non ci appartenevano alle persone che li abitavano per un periodo dato, determinato. Quindi le esperienze di cui volevo parlare sono tre. Una è Short Theatre, che è un'esperienza di più lungo viaggio perché è iniziata otto anni fa ed è iniziata con degli obiettivi che sono completamente falliti e ne ha trovati degli altri, diciamo, sulla strada. Poi un'altra esperienza è quella che citava Isabella che è perduta mente, che è stata una residenza di 18 compagnie per tre mesi al Teatro India, l'autunno scorso. E poi la terza esperienza di cui vorrei parlare, che è in atto, è Tropici, che è un progetto che sto seguendo con Michele Di Stefano, che è un coreografo, e questo progetto ha per adesso come casa l'Angelo Mai, che è uno spazio occupato a Roma. Sono tutte e tre esperienze romane, e in realtà questa è una specifica che accompagna PAV e mi accompagna da sempre, che è quella di un lavoro sul territorio, diciamo, non so bene se per vocazione o per azzardo, che però poi tende, diciamo, con una forza centrifuga piuttosto forte, poi da Roma ad arrivare sicuramente a un panorama europeo, a volte anche extraeuropeo. Parlo di, volevo iniziare da perduta mente, che, diciamo, è stata una cosa incidentale, come spesso succedono le cose a Roma e forse in questo paese, nel senso che c'erano dei lavori, è molto interessante anche capire perché, perché ha influenzato anche il modo di abitare quello spazio. Il Teatro India è un luogo che per la mia città è proprio il luogo desiderato per tutto il teatro contemporaneo, è quello che rappresenta tutto quello che potrebbe essere Roma, quello che potrebbe essere la scena contemporanea se il Teatro India fosse, cioè è tutta una roba ipercondizionale. Tra l'altro Shortyater è nato al Teatro India, quindi, diciamo, è un... Io faccio parte di PAV, faccio una piccola parentesi, è di Area06, che è un collettivo di artisti e organizzatori che ha occupato il Teatro India dieci anni fa. Quindi, diciamo, il Teatro India è pieno di significati per me e per tanti artisti romani. Dovano partire dei lavori al Teatro India molto lunghi che non sono mai partiti. A un certo punto, in questo vuoto in cui la programmazione non era stata fatta perché dovevano partire i lavori e però dei lavori che non partono, Gabriele Lavia, che è il direttore artistico del Teatro di Roma, ha pensato, diciamo, di affidare questi mesi di vuoto a degli artisti che lui chiama giovani ma che in realtà hanno una media di 40 anni. Niente, quindi è stato un invito. Lui non sapeva bene quello che stava facendo, diciamo, quindi però ha avuto il merito di fare questa chiamata. Quindi ha chiamato 18 compagnie romane che, diciamo, abbastanza rappresentative della scena capitolina che in realtà si assomigliano per gruppi. Cioè ci sono anche all'interno di queste 18 delle cose estremamente distanti ma anche poi, insomma, delle vicinanze invece per sottogruppi generazionali e di estetica, di pensiero. Molti non si conoscevano perché poi c'era appunto una trasgenerazionalità all'interno di queste 18 compagnie quindi c'erano anche delle giovani compagini, insomma, tipo, ne cito alcuni, tra l'altro uno è mezzo pugliese, opera di Vincenzo Schino insieme a Veronica Cruciani che è una di 45 anni che fa prosa pura contemporanea si occupa di teatro contemporaneo però prosa quindi, insomma, c'erano anche delle grandi estraneità all'interno di queste 18 compagnie. Quindi, insomma, ci ritroviamo al teatro mi hanno chiamato per fare il coordinamento di questa occupazione legale e ci siamo trovati, diciamo, a dover coniugare varie esigenze c'erano delle economie piuttosto ristrette ma non nulla e questo tempo, l'unico obbligo che è stato dato all'esperienza cioè, anzi, due, uno è un tema che era quello della perdita della perdita però, che è un tema così ampio che alla fine ci abbiamo fatto stare dentro qualsiasi cosa e l'altro era quello di avere un'apertura al pubblico a un certo punto, non c'era nessun tipo di regola eravamo liberi da tutti gli schemi che non so se conoscete rispetto agli stabili di Borderò di cose perché loro consideravano quello spazio come chiuso quindi tutto quello che veniva era in più quindi organizzare un'idea di apertura al pubblico all'interno di questi tre mesi concentrata, distribuita, insomma, un po' come volevamo e gestire tutta la parte chiusa al pubblico quindi, diciamo, con queste poche regole abbiamo iniziato a lavorare a giugno per entrare poi in teatro a settembre e chiudere l'esperienza a dicembre diciamo che perdutamente doveva coniugare due vocazioni c'era un professore quando faceva l'università che le chiamava, un bel modo di chiamarle che era ozium e negozium cioè ozium è tutto quello che riguarda appunto la creazione, la produzione tutto quello che serve all'artista per produrre, per creare per produrre e per i suoi scopi cioè non per produrre e poi mostrare quindi tutto quello che è il suo ozium il suo piacere artistico e creativo e poi c'è il negozium che è quello invece quando questa cosa ha una volontà che non è detto che sia necessaria ma in questo caso era imposta che è quella del rapporto con i cittadini e quindi doveva coprire queste due parti quello che è stato deciso per quello che riguarda l'ozium era quello di avere una tenita la residenza era per tutte e 18 le compagnie tutti i giorni per due mesi quindi non c'era uno spacchettamento per cui non c'erano gruppi di quattro gli spazi all'interno del Teatro India per poter creare sono tre volendo possono essere cinque ma con un sacco di inquinamento acustico quindi quello che abbiamo deciso di fare è di fare uno schema per quello che riguarda cose molto semplici ma che sono state frutto di rinioni infinite perché 18 compagnie è tanta roba quindi quello che abbiamo deciso di fare è di avere da una parte poter garantire a queste compagnie una certa protezione in alcune sale dall'altra invece avere una sala che era come il nuoto libero cioè una sala che non si poteva prenotare e che aveva sempre le porte aperte quindi tu sapevi che quando entravi in quella sala potevano arrivare altre persone potevano stare lì, mettersi là appena tu andavi in bagno mettersi a fare le prove loro cioè era nuoto libero e questa è stata diciamo questa disposizione in realtà anche tutte le altre sale quando provavi dovevi se non volevi che nessuno entrasse dovevi proprio scriverlo fuori perché altrimenti il lavoro sulla permeabilità è stato uno delle diciamo delle parole chiave o dei pensieri chiave all'interno della costruzione di questa residenza perché uno degli obiettivi interni era quello della contaminazione quello diciamo del time specific invece che del site specific cioè invece di lavorare sul luogo di lavorare su questo tempo accidentale che era stato messo a disposizione e che senza obbligare diciamo gli artisti a lavorare insieme su dei progetti per cui non abbiamo mai non ci siamo mai dati la regola di far lavorare adesso non so se le conoscete queste compagnie ma uso dei nomi per dare concretezza ma non abbiamo mai chiesto a nessuno e non ci siamo chiesti e obbligati di far lavorare i Tony Clifton Circus con opera piuttosto che Veronica Cruciani con Santa Sangre cioè era assolutamente ognuno aveva presentava il proprio si era fatto un'idea soprattutto durante l'estate di quello su cui voleva lavorare come elemento di partenza e poi così andando e appunto sperando nel time specific stando lì e vedere che cosa succedeva diciamo a stare vicini semplicemente e sono successe tante tante cose cioè perdutamente è stato un ha cambiato in modo radicale il panorama romano come non succedeva da anni Roma aveva uno spazio che aveva questa capacità di permeabilità e di conoscenza non obbligata quindi di osservazione discreta l'uno dell'altro e che quindi poteva far accadere delle cose accidentalmente che era il rialto che è uno spazio occupato che è stato che adesso ha i sigilli e quindi è uno spazio che non esiste più e che aveva questo funzionamento così di lavatrice in cui passi passo anche solo a prendere un caffè ma faccio in sala prove diciamo questo tipo di luogo secondo che insomma c'è stato sottratto tanti anni fa quindi perdutamente era quella roba lì che un po' conoscevamo ma moltiplicata perché 18 compagnie sono stiamo parlando più o meno di 80-90 persone che tutti i giorni stavano là che mangiavano insieme che facevano i turni per lavare i piatti cioè tutte quelle robe quelle robe lì quindi è stato abbastanza radicale quello che è successo perché appunto il panorama è cambiato dopo c'è proprio un prima e un dopo cioè ci sono artisti che non si conoscevano e che adesso lavorano insieme ciao Andrea ciao Andrea ma in modo cioè quando dico che è cambiato è proprio in modo profondo nel senso che sia dei lavori ognuno è entrato lì dentro con un progetto con un progetto nell'idea di questo negozium che sarebbe arrivato noi abbiamo deciso che arrivasse alla fine del percorso tutto concentrato su dicembre quindi ognuno aveva un suo progetto in attesa del pubblico degli spettatori dei visitatori quindi ci sono quando dico che è stato fondamentale incidente il fatto di essere tutti insieme perché questi progetti sono poi cambiati nel corso dei mesi e si sono contaminati e infettati a vicenda in modo assolutamente inaspettato cioè molto molto più del previsto dall'altra al di là di quello che è successo in quei tre mesi è tutto quello che è successo dopo cioè adesso sta per partire un laboratorio a Roma al Quarticciolo con tre compagnie di Perduta Mente che prima ma no proprio non si non è che solo non si conoscevano ma avevano una serie di pregiudizi estetici formali di contenuto all'interno cioè rispetto al lavoro degli altri perché in generale questo all'interno del panorama del teatro contemporaneo cioè è un grande zoo diciamo il teatro contemporaneo al cui interno si muovono diciamo flussi di pensiero molto lontani o apparentemente molto lontani poi visto da cioè visto se uno avesse la possibilità di vederlo un po' più a qualche chilometro di distanza si renderebbe conto che stiamo parlando di di cento sfigati che fanno più o meno la stessa cosa ma che poi da vicino e da cioè quando le vedi da così vicino e così attaccato non ti rendi conto anche dei possibili passaggi che ci sono tra un fare artistico e un altro quindi diciamo che le conseguenze di perduta mente sono cioè una specie di tsunami cioè che continuano a uscire fuori continuano a continuano a esserci delle appunto non conosco bene la Puglia il panorama pugliese per farvi degli esempi ma delle cose proprio telluriche cioè dei artisti Federica Santoro che lavora con i Tony Clifton io non so spiegarvi quant'è una cosa sconvolgente ma lo è cioè nel piccolo mondo delle cose è proprio c'è delle cose piuttosto sorprendenti che continuano e continueranno ovviamente cioè questo quello di cui mi occupo che è sempre relativo come abbiamo detto all'inizio al temporaneo quindi a un tempo che poi finisce ha di molto bello l'eccezionalità e di conseguenza negativa invece il fatto che se non se non risuccedono delle cose temporanee ovviamente poi un po' cioè il rischio è quello che si sfaldino anche questi questi slanci però insomma speriamo che non sia così cioè speriamo di solito in questi ultimi dieci anni poi delle occasioni cioè si sono sempre ricreate anche tropici che è il progetto di cui parlerò dopo non sarebbe esistito senza perduta mente che poi ha insegnato rispetto al negozio questa è tutta la parte appunto rispetto alla creazione e rispetto anche ai passi indietro che ogni artista deve fare se vuole convivere con altri artisti quindi deve rinunciare a tutta una serie di di personalità no? cioè il fatto di avere una sua sala chiusa concentrata ma non perché non serve non perché non sia bello però in quell'occasione non ce lo si poteva permettere quindi la cosa che poi non con cioè con con vari stress diciamo rispetto a questo rispetto a dover rinunciare a quella a quella protezione o comunque era richiesta questa poi non tutti e 18 hanno scelto di rinunciarci cioè c'è chi ha deciso di rimanere più e questo non era non c'era un giudizio rispetto a questo era semplicemente più che un invito era una condizione fisica cioè quindi non era semplicemente c'era così tanto bordello che era impossibile quindi dovevi prendere la sala dalle 8 di mattina alle 10 se volevi questo tipo di protezione cioè chi l'ha voluta ha continuato a lavorare così e quando abbiamo iniziato a lavorare su come aprire al pubblico abbiamo deciso al di là questo al di là delle prove esistevano dei tavoli all'interno dei mesi di residenza su dei temi dei tavoli che poi hanno cioè sono nati più che altro come indagine come indagine speculativa che poi alcuni sono proseguiti durante tutto il periodo cioè esistevano anche quando era aperto al pubblico quindi ci sono stati dei tavoli che hanno preso una forza anche teorica così interessante da rendere ragionevole il fatto di condividerli anche con i cittadini dall'altro c'erano dei tavoli più tecnici e c'era un tavolo che è un po' l'incubo di perduta mente ma secondo me è stata la cosa più bella che era il tavolo del dispositivo il tavolo del dispositivo era un tavolo che c'era due volte a settimana e che ragionava sul negozium cioè ragionava su aprire al pubblico e come aprire al pubblico partecipare quindi qui c'è un tema molto importante ma molto è proprio un'altra un'altra lezione che è quello dell'autoprogrammazione che è una cosa che a me personalmente interessa tantissimo l'autoprogrammazione rispetto al concetto di direzione artistica classico quindi il negozio cioè esi il negozio il tavolo del dispositivo fondamentalmente era un tavolo che ragionava sull'autoprogrammazione perché noi nelle tre settimane di apertura che ci siamo andati a dicembre fondamentalmente a parte rarissime eccezioni di cui poi vi parlo presentavamo i nostri lavori cioè non è che invitavamo altri artisti quindi bisognava autoprogrammarsi e questo è uno sforzo che raramente fanno gli artisti perché c'è sempre qualcun altro che si occupa dell'inserimento dell'opera di un artista all'interno di una struttura che poi si mostra al pubblico oppure se lo fa l'artista di solito ragiona su come mostrare altri suoi colleghi non come mostrare se stesso all'interno di un dispositivo autocostruito quindi è uno sforzo molto interessante perché obbliga al ragionamento del rapporto tra l'opera d'arte e il cittadino che è una cosa è una responsabilità di cui l'artista non è una solitamente a parte specifici casi in cui la ricerca dell'artista va nella direzione del ragionamento sulla comunità altrimenti non è una priorità a meno che non si gestisca uno spazio però insomma nella propria pratica artistica e anche questo tavolo permetteva di uscire fuori dalla dimensione di chi decide cioè decide chi va al tavolo cioè quindi perché poi ovviamente una residenza di 18 compagnie pone anche il problema del potere il problema decisionale quindi era semplicemente una cosa rispetto alla presenza cioè se ti interessava ragionare su come organizzare questa apertura al pubblico bastava esserci ed è stato molto molto appassionante ma davvero proprio ragionare sia per me che non sono un artista e che invece sono abituata a programmare senza discuterne con gli artisti cioè senza mettermi lì a ragionare con loro su perché io li vorrei mettere alle 8 prima di quella cosa che c'è alle 9 quindi tutto è un lusso estremo è stato perché di solito non c'è questo tempo del pensiero e del discorso a disposizione è ovvio che ha qualcosa di eccezionale e non so neanche se è la pratica giusta da proporre perennemente però è stata sicuramente una pratica giusta rispetto ad assumersi delle responsabilità rispetto all'apertura l'apertura era delicata perché non si presentavano degli spettacoli finiti si presentavano dei percorsi degli abbozio delle cose anche poi iperdefinite ma anche delle cosette un lavoro in corso tra l'altro con un estremo livello di rischio perché spesso erano cose contaminate tra varie compagnie quindi ovviamente tu fai 27 passi indietro perché non è la tua pratica ma è la tua pratica contaminata dalla pratica di quell'altro che a sua volta è malata della pratica del terzo tutti insieme a creare sia più lenti molto più lenti quindi sono arrivati al pubblico dei prodotti quindi era molto importante far capire al pubblico questo contesto qui cioè fargli capire sì l'ha capito cioè di cosa stava venendo a vedere e diciamo l'altra cosa a parte appunto questo tempo eccezionale era anche una gestione dello spazio cioè noi abbiamo provato non so adesso non so se troviamo delle foto di India per farvi capire che tipo di situazione è comunque abbiamo provato anche a vivere quel teatro come vorremmo fosse vissuto tutto l'anno quindi ma anche diciamo giocando agli arredatori cioè anche con delle cose molto molto semplici quindi a un certo punto il tavolo del dispositivo è diventato il tavolo dei piccoli dei piccoli arredatori cioè era come cioè questo è uno spazio industriale c'è questo foyer gigantesco freddo gelito perché poi era un inverno inclemente ovviamente quindi India è uno spazio che d'inverno è un po' ostico perché è sul fiume ci devi proprio voler andare cioè non è uno spazio inserito nel tessuto di un quartiere e quindi abbiamo cioè lottato contro questa inospitalità del luogo lavorando semplicemente a dei piccoli segni a dei piccoli segni di di accoglienza abbiamo cercato di lasciare le tracce di tutti i mesi passati lì dentro in modo che le persone che venivano avevano idea e traccia di tutto quello che era successo e di tutto quello che aveva portato abbiamo lasciato appesi tutti i fogli di lavoro tutti le i mega tabelloni con lo schema delle compagnie nelle sale gli orari tutti i messaggi perché c'erano dei muri che usavamo come bacheche e quindi insomma tutto questo è stato importante lasciarlo lasciarlo lì abbiamo c'era il tavolo sull'attore che era uno dei tavoli che è rimasto aperto durante l'apertura al pubblico che era un tavolo che ragionava appunto sulla figura dell'attore con una decina di artisti provenienti da diverse delle compagnie presenti aveva creato un salotto per esempio durante i mesi di residenza quel salotto è stato semplicemente abbellito perché qualcuno veniva a trovarci quindi diciamo abbiamo cercato di far sì che il pubblico non si sentisse che non ci fosse la chiusura delle porte della residenza e poi l'apertura per il pubblico ma che fossero anche quelli permeabili che ci fossero delle cose anche perché poi le residenze continuavano comunque la sera aprivamo al pubblico ma di giorno si continuava a provare anche perché non erano concessi allestimenti non erano insomma eravamo un po' prolet cult così un po' un po' rigidi su determinate cose nel senso che non c'era questa cosa di appropriazione di una sala cioè tu dovevi abitare c'era il minimo storico per puntare due luci e poi così buona la prima quindi c'era un po' questa anche perché ci credevamo e penso questa sia stata un'intuizione giusta che lasciare questa questa idea di apertura anche di poca definizione aiutasse il pubblico a capire il livello di cantiere in cui stava entrando cioè non perché il troppo confezionato illudeva o comunque rimandava simbolicamente a un'altra cosa che poi quella creazione di quella aspettativa di quell'altra cosa sarebbe sicuramente stata delusa perché non c'era quel livello da festival o da vetrina un altro all'interno di Perduta Mente è nato un progetto che secondo me ha molto a che fare col discorso che ha fatto Andrea ieri Andrea Pizzalis quindi per chi c'era che è rispetto alla comunicazione e al rapporto col pubblico a come cercare altri pubblici a come io non mi occupo di comunicazione quindi non voglio parlo di un processo artistico che mira a quello e che è un processo artistico che rimane nelle maglie del processo artistico performativo cioè quindi non un processo artistico che poi sfora sulla comunicazione e il design e che è fa parte di quei progetti parlo di questo perché è nato all'interno di Perduta Mente ma è una riflessione secondo me importante rispetto a una serie di artisti che ragionano sul concetto di comunità e di arrivare ai cittadini prima ai cittadini che agli spettatori questo è un po' una mia passione ma con tutto l'amore anche per il teatrino nel senso più bello del termine quindi non è non penso che sia una deriva obbligata però penso che se c'è perché ce n'è così tanti in Europa di questa spinta di tanti artisti a ragionare all'interno della propria opera d'arte all'allargamento e al coinvolgimento di una comunità è perché insomma in un modo che non è quello degli anni 70 ma in un modo assolutamente contemporaneo dei motivi ci sono che sono collegati a quello che diceva Andrea Pizzalis o ieri che è un po' la paura di un certo teatro contemporaneo di parlare di parlarsi tra di noi io non sono completamente d'accordo non penso che sia sempre così penso che però sia un rischio che esiste diciamo partendo da queste riflessioni tre compagnie di perduta mente che sono Mutai Mago Santa Sangre la Casa d'Argilla che Mutai Mago e Santa Sangre sono due compagnie che già si conoscevano molto bene perché condividevano uno spazio di lavoro romano occupato che è il collatino la Casa d'Argilla e Mutai Mago sono due compagnie che si occupano in modo molto diverso di teatro di immagine sintetizzando adesso se mi sentono mi uccidono però per farvi capire un po' la Casa d'Argilla invece è una compagnia di meno rilievo nazionale e internazionale di Mutai Mago e Santa Sangre che lavora sui testi sui testi se vogliamo anche molto letterari cioè su testi contemporanei ma molto colti e molto legati alla letteratura più che alla letteratura teatrale e Matteo Angius quindi tre compagnie e un artista singolo Matteo Angius è un attore di Accademia degli Artefatti questa compagine un po' bizzarra ha creato un progetto meraviglioso che si chiama Art You Lost di cui ho portato pure un po' di cosette che vi lascio allora questo progetto loro appunto avevano questa questa fissa diciamo di non voler fare un loro progetto cioè questo parte è tutta una cosa di cui non vi attacco questo discorso rispetto alle economie messe in campo dal Teatro di Roma che erano poche per fare una produzione quindi questo ha portato tutti a fare dei lavori non finiti diciamo perché poi c'è tutta una questione legata ma veramente è territoriale quindi non ve la racconto rispetto al fare politica tutta una roba complicata comunque loro hanno deciso di mettere insieme la loro quota ogni compagnia aveva 5.000 euro a disposizione quindi sicuramente niente per fare una produzione ma qualcosa per lavorare loro hanno deciso di mettere insieme quindi di avere questi 15.000 euro a disposizione e di lavorare su qualcosa che era molto lontano dal loro lavoro ma di un progetto altro e che avesse a che fare con una chiamata pubblica con un coinvolgimento il più largo possibile alla cittadinanza e hanno e nasce così questo progetto Art2Lost con un sottotitolo che è mille persone per un'opera d'arte quello che hanno fatto è una chiamata pubblica ai cittadini di portare al Teatro India un oggetto di cui volevano in qualche modo liberarsi un oggetto che erano o che questa è una mia interpretazione più che volevano liberarsi qualcosa un oggetto che erano disposti a perdere ma che avesse comunque un minimo di valore per loro insomma non la cartaccia che ho in tasca che la voglio buttare qualcosa che un minimo avesse una piccola storia personale e questo diciamo è stato molto importante per il progetto complessivo perché loro hanno iniziato quindi le persone dovevano avere anche mezz'ora a disposizione nel momento in cui portavano l'oggetto quindi c'era questo volantino che ha girato per Roma in modo impressionante quindi una comunicazione vecchia che è quella del volantino che era un volantino che aveva aspetta forse qui ce l'ho era questo qui che era un po' sembra quelli del di quando si perdono le persone no era questo qua era in bianco e nero questa è la versione più carina che abbiamo fatto dopo per la grafica era sempre questo materiale è in inglese quindi ovviamente a parte il titolo che è in inglese le regole qui sono scritte in italiano adesso ve le leggo scegli un oggetto che ha un significato per te qualcosa che sei pronto a lasciare per sempre seconda regola scegli un giorno dedicaci mezz'ora del tuo tempo terza comunicaci il giorno e l'ora c'era una mail dedicata un numero di telefono dedicato viene in teatro e nell'ora e nell'orario prescelto porta l'oggetto con te una volta in teatro segui le indicazioni e lascia le tue tracce e i tuoi segni sesto torna a teatro a visitare l'opera che hai contribuito contribuito a creare e sono venute mille persone e in tre settimane e sono venute e sono venute durante la residenza durante la parte dell'Ozium durante la residenza chiusa perché ovviamente non si poteva era impossibile coniugare poi perché il percorso gli artisti di Art2Lost hanno costruito un percorso molto preciso e molto curato nel lasciare l'oggetto quindi la persona arrivava col suo oggetto e tutto questo percorso viaggiava nei corridoi del teatro india non entrava quasi solo in un retro di una sala quindi faceva vedere anche degli spazi del teatro india che di solito il pubblico non vede e poi tutto questo una cosa piccolina ma interessante rispetto al discorso del nuoto libero e delle cose che c'era ovviamente quando sei in così tanti e per un mese tre settimane un mese c'è anche del pubblico che passa c'è un galateo che deve essere imposto a tutti che è appunto molto interessante da studiare c'è un galateo della convivenza tra 18 compagnie che provano tra gli spettatori che passano Art2Lost il percorso era molto delicato quindi imponeva una bella rottura di palle per chi provava vicino al corridoio di Art2Lost che non poteva insomma diciamo tutti questi questi limiti di buona educazione che però sono stati belli da esplorare e quindi una persona arrivava faceva varie cose lasciava scriveva la sua data di nascita come prima cosa anzi ve lo racconto il percorso perché è bello e arrivava aveva dei dadi componeva guarda prendetevi questo perché qui dentro ve lo potete anche mentre vi parlo lo potete vedere vedo anche questo la prima pagina è dedicata a questa parte qui diciamo tutta Art2Lost era divisa in due parti preparatorio e opera tutta questa parte qui è relativa al preparatorio che potete vedere adesso non ce l'ho più sotto mano ma mi pare la prima pagina e no 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 tanto il percorso me lo ricordo bene non quella ecco lì dentro dovrebbe esserci ecco nella pagina di destra quelle sono le immagini relative al preparatorio quindi tu arrivavi scrivevi la tua data di nascita poi mandavi c'era un telefono come vedete c'era anche proprio un'estetica molto curata tu eri spiato ovunque da microfoni ma non c'era questa sensazione di grande fratello però era tutto ipercurato quindi arrivavi scrivevi questa data di nascita poi mandavi un sms se non sbaglio ma mi potete correggere mandavi l'ultimo sms che avevi scritto lo mandavi o a un numero di telefono dal tuo telefono lo scrivevi su un cellulare messo a disposizione dopodiché ti sedevi a un tavolo c'erano delle cuffie e sentivi e sentivi una musica la musica era la musica dei tuoi 16 anni noi avevamo preparato 80 playlist e era la tua data di nascita più 16 quindi tu ti sedevi e non capivi minimamente e la cosa era solo di stupore dici minchia ma è proprio la musica della mia adolescenza guarda come hanno fatto e era insomma piccoli trucchetti però era tutto proprio era la sensazione delle cioè avevamo c'era un computer c'era una stazione di computer sia con le telecamere perché più persone facevano il percorso in zone quindi anche perché c'era tutta una serie di luci che si spegnevano si accendevano rispetto a dove stava la persona quindi dovevi era tutto monitorato quindi dopo la musica se non sbaglio andavi in un corridoio dove c'era un tavolo c'erano delle candeline che tu soffiavi e il soffio era registrato perché poi tutto questo è servito all'opera che poi vi potete vedere nella dispensa e poi un po' vi racconto e ti davi nel momento in cui si spegnevano le candeline rimanevi al buio e si illuminava una scritta che era sul tavolino che c'era c'era scritto sussurra qui un consiglio che ti vuoi dare e c'era un buchetto nel tavolo e tu lì potevi potevi darti un consiglio poi si illuminava una poltrona c'era un telefono che squillava e c'era una persona dall'altra parte che ti raccontava una volta che si era perso e poi ti chiedeva ma tu ti sei mai perso? e raccontavi chi raccontava quando si era perso da piccolo nel bosco chi raccontava quando si era perso perché era entrato in depressione insomma diciamo vari livelli di perdita di generosità nel racconto dopodiché entravi mappa? no dopo mappa mappa entravi in un retro di una sala e c'era una mappa di Roma 10x10 su cui tu camminavi c'erano delle penne a disposizione dei pennarelli e scrivevi delle cose sulla mappa e lì diciamo era una roba meravigliosa andare a fine giornata perché c'era non so dove sono nato il primo bacio casa di mia madre la stazione dove arrivo sempre la prima volta ho fatto l'amore sì insomma diciamo il più tutto quello che potete immaginare possa suscitare una città diciamo su chi la abita e poi dopodiché entravi in una stanza molto bella con un tavolo da lavoro con delle lampade e tu scrivevi la storia dell'oggetto che avevi portato di raccontare ma poteva essere anche iper idiota cioè insomma i oggetti che sono stati portati erano i più diversi dall'agendina dell'anno prima al cappello di mio no cioè delle cose di estremo valore affettivo ma estremo che tu non potevi capire perché l'avessero portati cioè come che cosa cosa li avesse spinti a portare una cosa così importante a delle cose più stupide così e quindi poi gli artisti hanno preso tre settimane di tempo quindi finito il preparatorio noi abbiamo aperto al pubblico con perdutamente tutta la la giostra di perdutamente finito gli ultimi l'ultimo gli ultimi due giorni di perdutamente abbiamo chiuso con Art You Lost con l'opera loro hanno riorganizzato ah ti facevi una foto a un certo punto ti facevi una foto sceglievi uno sfondo c'erano 4 colori 4 o 5 colori diversi e ti facevi una foto era l'unica tappa che avevo dimenticato quindi loro hanno preso tutto questo l'hanno riorganizzato e ne hanno fatto un'opera d'arte che era in tutti gli spazi del teatro india quindi il foyer l'enorme foyer di cui parlavamo prima sopra sul cioè la foto c'è c'è tutto un cornicione di foto che passavano di tutte le persone che insomma di tutte le persone che avevano tutte le foto che erano state scattate poi cambia insomma lì soprattutto i Santa Sangre che ci hanno lavorato che lavorano benissimo col video poi tutti gli sms quindi diciamo il foyer scorrevano come in un'unica cornice le foto e gli sms che si erano mandati poi le sale non c'era un ordine tu potevi diciamo girare un po' c'era una sala con la mappa illuminata solo con la luce wood con tutte delle casette che tu potevi spostare e soprattutto ognuna aveva una torcia quando entrava perché era piuttosto non buio ma un po' in penombra e leggevi tutti i milioni ma stiamo parlando di milioni di scritte che c'erano sulla mappa poi c'era la cosa più diciamo spettacolare era il retro della sala con la mappa abbiamo costruito una foresta al chiuso quindi cento metri quadri di foresta costruita tutta insomma in collaborazione col comune con tutto e la foresta ci si perdeva c'era una proprio una roba iperfitta con un sentierino e c'erano tutti dei microfoni sulle foglie che in cui erano messi i consigli che le persone le persone si erano dati quindi tu giravi nella foresta come dei piccoli diciamo uccellini c'erano non so stai attento tutti i consigli che soprattutto è non avere paura diciamo questo come sondaggio antropologico il consiglio più diffuso è non avere paura cioè proprio questo così come pressionante cioè tipo il 70% delle persone si è detto di non avere paura e quindi insomma tu giravi e sentivi queste voci perché poi il consiglio tu lo davi sussurrato quindi c'erano tutte queste vocine girando nella foresta che davano questi consigli e poi c'era la grande stanza con tutti gli oggetti c'erano tutti gli oggetti messi in delle scatole con la foto dell'oggetto fuori dalla scatola e erano divisi per gruppi ogni gruppo portava con una striscia segnata per terra un muro dove erano attaccate le storie degli oggetti tutto numerato come un archivio tutto è stato archiviato in modo proprio da topi da biblioteca proprio precisamente ogni storia un numero ogni oggetto un numero quindi tu potevi leggere la storia legata all'oggetto che vedevi dopodiché c'era un corridoio un corridoio dove dopo che avevi sentito la musica della tua adolescenza ti chiedevano al preparatorio di scrivere un'immagine cioè di scrivere una cosa e tu scrivi su un adesivo e avevamo attaccato in questo corridoio tutti gli adesivi con tutte le cose che le persone avevano disegnato e scritto dopo aver sentito la musica ovviamente era il corridoio della felicità cioè nel senso tutti birretta in spiaggia la musica in macchina la festa a cui non ero stato invitato cioè diciamo tutte quelle cose lì dell'adolescenza o di esclusione o di grande partecipazione e poi c'era un ultimo pezzo che era un altro corridoio dove nelle cuffie c'erano le storie raccontate per telefono quindi c'erano una ventina di cuffie tu ti sedevi e potevi ascoltare le storie delle persone raccontate per telefono diciamo questo era diciamo un progetto che al di là diciamo della qualità artistica che era meravigliosa c'è veramente l'obiettivo raggiunto nel senso che quel tipo di chiamata è arrivata ai cittadini davvero cioè nel senso è riuscita ad arrivare sicuramente dove una chiamata semplice a uno spettacolo non arriva quindi no perché poi le regole erano in italiano quindi c'era la faccia con il punto interrogativo cioè è arrivata veramente la qualunque possiamo ammetti che più o meno un 30-40% era di persone interessate al teatro che conoscevano quelle compagnie ma un 60-70% che noi abbiamo i nomi quindi erano di persone che non insomma di persone tra l'altro alla fine vedi nella copertina ci sono quegli standardi con i nomi quando tu uscivi scrivevi il tuo nome con un pennello ma lo scrivevi non ti rendevi conto che lo stavi scrivendo su uno standard perché lo standard era arrotolato tra due come si chiamano lo so perché tu vedevi una striscia bianca dove dovevi scrivere e poi quando tornavi sulla parte esterna del teatro india c'erano questi mega standardi una bomba totale cioè paradossalmente tu entrati in una cosa piccolissima che era molto importante per te ti perdevi questa cosa per poi dare veramente il valore si no poi tornavi e ti prendeva un colpo perché le persone che avevano lasciato soprattutto tutte quelle perché noi siamo andati nel dopolavoro è un tipo di chiamata che incuriosiva cioè dovevi avere mezz'ora non parlavamo di percorso individuale perché il percorso individuale spaventa tantissimo e lo capisco perché anche a me cioè quelle robe prestazionali capito che devi fare delle cose si presuppone che tu sei intelligente insomma tutte quelle cose quindi noi non lo dicevamo era un po' a tradimento però poi era il percorso era davvero poco prestazionale cioè non ti era molto accogliente come tipo di percorso non era cioè non è che dovevi essere fico o dovevi cioè era proprio una cosa semplice che ti metteva a tuo agio era molti la definivano come un cioè come come andarsi a fare un massaggio hanno detto tanti cioè come prendersi come così una spa sì una mezz'oretta di spa così una spa dell'animo molto delicate sì non erano e poi ti metteva la canzone metteva subito in buona cioè la playlist era veramente metteva di buona ed è questo diciamo un esempio rispetto appunto cioè perché ieri ci interrogavamo Andrea si interrogava in modo molto intelligente rispetto all'arrivare a un altro pubblico ma lui ragionava semplicemente ragionava sul suo che è quello della comunicazione quindi come una strategia di comunicazione può arrivare ad una che è un problema cioè che è una questione importante no perché non è che tutti i progetti hanno la vocazione della comunità e non debbono averla cioè non è una cosa obbligatoria però ci sono anche altri altri metodi che sono che è proprio il progetto artistico che arriva che arriva altrove per come è ragionato per come è pensato cioè se è un cioè se è davvero un'urgenza di un artista quella di arrivare al che appunto non tutti gli artisti ce l'hanno e non la devono avere perché va va protetto e comunicato bene e visto anche la cosa più veramente ozium possibile cioè la più chiusa la più sacrale c'è chi ha quell'idea di teatro e va preservato anche quello però è molto interessante perché c'è un movimento gigantesco in Europa che ragiona su questo termine adesso poi iper abusato e lo sarà sempre di più perché è una delle parole chiavi del nuovo programma europeo dei prossimi sette anni che è la comunità quindi poi sarà una parola che già inizia a stare sul cazzo diciamo però diciamo al di là del suo abuso così è una questione cioè è di decidere di indirizzarsi ai cittadini prima che agli spettatori che non è una nota di merito è semplicemente proprio un altro sguardo che tu hai verso il tuo lavoro e verso le persone a cui vuoi otteni di arrivare e certo cioè tu facevi ozio un negozio secondo te è vendibile un progetto del genere in altri spazi certo cioè nel senso assolutamente ripensato soprattutto nella parte diciamo dell'opera d'arte adattato tra l'altro noi l'abbiamo fatta a Sant'Arcangelo quest'anno ma la direttrice artistica di Sant'Arcangelo ha deciso di dividerlo in due anni cioè quest'anno abbiamo fatto il preparatorio e nel 2014 facciamo la restituzione che anche questa è un'enorme trasformazione della natura del progetto perché ovviamente non c'è quella continuità temporale per cui io ho lasciato l'oggetto e dopo vengo a vedere tu cosa ne hai fatto è possibile a parte i cittadini di Sant'Arcangelo che hanno partecipato ma tutta quella parte che invece gli spettatori gli operatori gli altri artisti non è assolutamente detto che torneranno a Sant'Arcangelo quindi non è detto cioè potrebbero non tornare magari non è che tornano apposta per vedere che fine ha fatto il loro oggetto o anche la memoria anche se tornano ma la memoria di quello che hanno fatto durante il percorso è diversa non è nemmeno né più però è una direi proprio un'altra cosa l'opera ha un valore di per sé cioè nel senso sono venuti a visitare l'opera più o meno 4.000 persone perché ovviamente era anche quello cioè il tipo di proposta era da diciamo da museo d'arte contemporanea e ovviamente aveva un valore assolutamente per chi non aveva portato l'oggetto cioè non era ovvio che chi aveva portato l'oggetto ci provava un gusto tutto personale a rivedere c'è stava là c'è vedevi questa gente che raccontava a tutti quello che aveva fatto perché per raccontare a chi perché molti erano venuti a portare l'oggetto poi quando erano tornati a vedere l'opera d'arte hanno portato tutta la famiglia e quindi raccontavano a tutta la famiglia come avevano lasciato quelle tracce come quindi da dove veniva quella rielaborazione artistica della loro traccia della loro autorialità in qualche modo e perché stavo dicendo questo? sì assolutamente sì tra l'altro sì tra l'altro ci stiamo lavorando stiamo lavorando su Parigi e sull'Aquila in questo momento con questo progetto sì e abbiamo tra l'altro non solo c'è una diciamo ovviamente ha una vocazione relativa che va a raccontare un luogo direi come vocazione primaria di un tipo di progetto del genere e tra l'altro declinabile non solo rispetto al luogo ma per esempio abbiamo scritto un progetto che per adesso non è andato in porto perché era stata una richiesta precisa dell'auditorium di Roma che quindi è un luogo dedicato fondamentalmente alla musica con delle aperture sulle altre arti ma diciamo è la musica l'obiettivo e la programmazione a queste dedicata di farne una versione legata al suono e quindi abbiamo scritto un progetto che si chiama Play Your Sound che era invece di portare l'oggetto di cui vorresti liberarti ma un oggetto che per te suona bene cioè che ha un suono che potrebbe essere dal cd alla tazza quando ci parlo dentro alla conchiglia diciamo era tutto quindi era completamente un altro progetto con tutta un'altra declinazione sia nell'opera d'arte poi in quello che ne risultava sia proprio nella raccolta delle tracce che erano tutte esclusivamente sul suono nel senso più ampio del termine da quello musicale a quello invece della voce o del respiro dei passi insomma era proprio un'altra quindi in realtà è iperdeclinabile come tipo di di idea è come una sorta di sì di piccolo dispositivo articolo insomma di un dispositivo artistico che fondamentalmente è chiede ai cittadini di comporre un'opera d'arte forse è questa la cosa diciamo di base cioè le regole sono chiamare i cittadini a lasciare tracce e oggetti e quindi questa forse è l'unica che poi vengono rielaborati da degli artisti in un'opera in un'opera unica forse questa è la regola diciamo di base poi le possibili declinazioni insomma ovviamente anche i luoghi chiamano no a un cioè per esempio forse nel 2015 lo facciamo a Gerusalemme ovvio che insomma non è che si può fare come a Roma no cioè nel senso due domande te le devi fare e anche il diciamo il lavoro con gli artisti del luogo è importante cioè capire perché è molto bello anche lo sguardo dello straniero che è una cosa di cui voglio parlare dopo rispetto alle residenze no cioè quindi il valore dell'arrivare in un luogo di qualcuno che di quel luogo non ne sa nulla perché noi non sappiamo nulla di Gerusalemme anche se magari pensiamo di saperne tanto cioè è tutto talmente filtrato no quello che sappiamo dei luoghi soprattutto di alcuni luoghi così chiave come per esempio Gerusalemme e quindi è ovvio che ha un valore no quella cioè quel non sapere nulla è quello di muoversi con quella disinvoltura da forestiero cioè in cui che magari fa tanti incidenti no perché non sa perché non non sa bene come muoversi però è anche interessante poi come quello sguardo dello straniero si si mette in contatto con qualcuno dei local no di qualcuno che di lì ne sa a pacchi e quindi ti può diciamo mettere insomma ragionare su questi su questo su questo rapporto qui penso che sia un ragionamento importante per tutti i luoghi che vogliono porsi non so se questo lo vuole fare ma come dei luoghi appunto che mischiano ozium e negozium e quindi che mischiano il lusso della creazione chiusa che si vuole dare a un artista ma anche mischiarlo con la vocazione al dialogo con un con un territorio e beh direi che di questo di questo ho detto più o meno tutto non so se di questa cosa qui avete c'è tipo anche rifatto a Roma sarebbe possibile se è venuta cioè in vista la Roma Roma è grande sono venute solo 3-4 mila persone esatto si si è molto un'altra non so l'altra sera anche ci siamo lasciati per questa questione a Carmelo Grassi e si parlava proprio di permeabilità abbiamo utilizzato un sacco questo termine rispetto agli spazi attualmente esistenti in Italia ma come si chiedevamo un po' ci chiedevamo spazio vogliamo uno spazio non era quello proprio applicare dei meccanismi di permeabilità come quindi sentire tutto questo in questo momento ma perché va cioè penso che le strategie di comunicazione siano fondamentali ma che comunque cioè nel momento in cui tu scegli una strategia comunicativa che magari è permeabile anche quella con dei mondi altri come la musica o la moda e quindi sicuramente ti allarghi a un altro a un altro pubblico che non è quello teatrale ma dei progetti di questo tipo vanno in un'altra direzione ancora che non è quella cioè ma che è il tipo di chiamata che tu fai ai cittadini che decidono di arrivare e che ha se vuoi anche una una modalità vecchia che è quella del passaparola che è quella dell'andare di fare un po' il testimone di Geova e di andare a parlare con le persone ovvio che non c'è una strategia giusta credo unica no ma la sovrapposizione di metodi diversi penso sia la cosa più importante e più necessaria soprattutto per chi ha un luogo e quindi non è perché se tu hai un progetto pensa a una strategia di comunicazione una ad hoc su quel progetto che non può essere la stessa che per un altro quando hai un luogo in cui si incrociano vari progetti è importante lavorare a tutti questi livelli qui quindi magari è importante la comunicazione che parla per questioni divisive di metodo di claim parla a un pubblico più contemporaneo più giovane magari potenzialmente interessato alla cultura ma che di teatro non ne vuole sapere però ci sono anche altri progetti e lì secondo me passa meno dalla comunicazione o comunque non da quel tipo di comunicazione ma da veramente dal tipo di progetto che tu fai lì dentro che arriva a un'altra ancora fetta della società che è quella che non è interessata la cultura che è un'altra ancora o comunque non sa di esserlo o ha delle questioni rispetto all'accessibilità di quel prodotto culturale quindi anche ci sono PAV e io con PAV abbiamo lavorato tanti tanti anni in progetti di decentramento culturale nella regione Lazio che è appunto il decentramento culturale poi insomma un concetto veramente vecchio anni settanta insomma tutta una roba molto complicata da gestire tra religioso e comunista insomma una roba così di questa educazione con questi presupposti strani di educazione di un territorio insomma è molto controversa come come questione però sicuramente quello che in quegli anni ho imparato è che c'è tanta soprattutto in un territorio appunto non particolarmente stimolato culturalmente c'è un grande pregiudizio non tanto verso l'opera d'arte ma verso se stessi rispetto all'opera d'arte cioè verso la propria capacità di lettura quindi una cosa ma io non ci capisco niente cioè questi erano no ma io no non capisco non è per me cioè diciamo tutto cioè c'è molto questa adesso io sono oltre quattro anni che non mi occupo più di questo non so se nel frattempo è tutto cambiato però c'era questo atteggiamento che è un misto di pregiudizio verso quello che potresti andare a vedere ma anche rispetto alla tua preparazione a quella cosa lì e quindi è molto difficile far passare almeno per me lo è stato un'idea di semplicemente legata al bello alla riconoscibilità del bello no? che non è quindi culturale nel senso di colto ma culturale nel senso più ampio e quindi la riconoscibilità del bello ha un'accessibilità gigantesca cioè non è non ha bisogno di proprio che poi non è è molto complesso adesso non entro nella cosa della formazione del pubblico però è tanto complicato perché poi ci sono tante cose che li deludono che non gli piacciono insomma non tutto è per tutti insomma non è che io penso che a teatro ci debbano andare le folle non c'ho questa o a vedere tutto e c'è bisogno cioè non è che il valore di una cosa sta nella nei numeri o di chi ma lo dico profondamente cioè va bene così se ci stanno 15 persone che però sono felici insomma e saranno felici 15 insomma non so non è che tutto semplicemente è che sarebbe bello che dei luoghi che appunto non sono teatri no ma sono dei luoghi di cultura potessero offrire un misto di queste cose qui come una stratificazione di proposte che vanno un po' dalla cosa che non piacerà mai più che a 15 persone e invece dei progetti che li avvicinano e poi magari ci cascano no? a vedere anche quella cosa più però delle cose che rompono un po' la membrana del rapporto tra un luogo e i cittadini che ci vivono intorno poi sono insomma sono veramente penso che questa è una parola che ho usato anche ieri che ultimamente uso troppo adesso cambierò che è quella della vocazione che però penso sia proprio una questione seria cioè della vocazione dei luoghi non è detto che tutti debbano fare tutto cioè va bene che luoghi che non hanno nessun tipo di rapporto col territorio e che sono col territorio circostante perché magari sono isolati e va bene così perché hanno un rapporto invece che con quel territorio con i confini dell'Europa cioè va bene non è veramente una questione obbligatoria è una questione proprio di vocazione esatto sì sì assolutamente non è di certo una cosa che tu potevi individuare no? Artulost nel lavoro dei Mutai Mago di cinque anni fa ma anche dell'anno scorso ma anche nel nuovo spettacolo che stanno facendo cioè non è una può essere anche diciamo c'è poi il concetto questo era un progetto che imponeva come tutte le commissioni imponeva un se volevi accogliere questo invito un 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 po' una piccola rivoluzione interna no? cioè decidere di fare qualcosa che di solito non faccio cioè indirizzarmi ai cittadini così con questa anche presunzione se vogliamo no? di poter parlare ai cittadini in particolare Artulost o in generale Artulost diciamo in particolare Artulost ed altri progetti di perdutamente cioè perdutamente aveva ha cercato aveva sicuramente il grosso valore di perdutamente è interno cioè è interno e per gli artisti che lo hanno fatto diciamo non è una cosa che ha sballottato una città non si è d'accordo nessuno cioè stiamo sempre parlando di cose no? così microscopiche anche quelle 3.000 persone che sono venute a vedere Artulost stiamo parlando del nulla cosmico cioè no? su una città di 3 milioni e mezzo di abitanti cioè incidenza o zero cioè proprio quindi stiamo sempre parlando di minuscolo a livello di incidenza no? su un processo sociale insomma quindi è giusto ragionare su anche non so poi Short Theater il festival di cui adesso vi parlo ha sicuramente dei numeri grandi ma sempre minuscoli no? cioè sempre ci indirizziamo a una piccola piccola fetta della società cioè insomma quindi ma va bene così mi sono perso un'altra volta sì 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 ora per me ha meritato quando l'hai eliminata non pensavo più per gli artisti tra artisti tra le pratiche di ogni simulazione che si è trovato tra artisti e luogo cioè perché queste ricette compagnie magari c'erano alcune carte altre cioè non certo magari non ce l'ha mai entrata non ho mai fatto questo di lavori qui e quanto questo tipo di iniziative sono generative totalmente assolutamente cioè avere un tempo voi non avete in Puglia almeno da fuori immagino avete i vostri problemi però non avete per esempio il problema dei luoghi degli spazi di iniziative di iniziative di iniziative Grazie a tutti.